Esplosione di gossip, Antonella Fiordelisi e Stefania Bernal, la coppia scintillante dei reality show, si prepara per una nuova avventura televisiva. Cari amici di Lady Gossip, il mondo dei reality show italiani è in fermento, e noi siamo qui per svelare tutti i retroscena scottanti. Antonella Fiordelisi, ex vippona della settima edizione del Grande Fratello VIP, ha finalmente tirato fuori dal cilindro il mistero che aveva avvolto le sue dichiarazioni misteriose nelle scorse settimane, sarà parte di un'inedita coppia con un altro volto noto dei reality show trasmessi su Canale 5, la spettacolare e Stefania Bernal, l'ex naufraga dell'Isola dei Famosi. L'annuncio ufficiale del programma ha mandato il fandom invisibilio, e le congratulazioni sono piovute su Antonella da ogni angolo dei suoi profili social. Ma non solo i fan si sono congratulati con lei, anche i suoi ex coinquilini della casa del Grande Fratello VIP7 le hanno fatto sentire il loro affetto. Saraltobello è stata una delle prime a scrivere, e il suo messaggio è stato affettuoso e incoraggiante, amore mio, in bocca al lupo per Pechino, sai che per te ci sarò sempre. Ti aspetto vittoriosa. Sei unica, sappilo. Ma non si è fermato qui, anche Matteo Diamante e Patrizia Rossetti hanno inviato i loro migliori auguri. Antonella, nell'elencare chi le ha fatto i complimenti, ha aggiunto una piccola frecciatina agli assenti, tra cui spicca il nome di Nikita Pelizzon, la vincitrice del reality show con cui Antonella aveva stretto una profonda amicizia. E qui si infittisce il mistero. Sembrerebbe che negli ultimi tempi qualcosa tra le due ex vippone sia andato storto. I fan non hanno potuto fare a meno di notare il commento critico di Antonella sul corso motivazionale di Nikita, che ha scatenato un vero e proprio dibattito sul web. Questo corso era stato sostenuto strenuamente dalla Pelizzon, che non aveva mai esitato a difenderlo. La tensione tra le due influencer è salita alle stelle quando Antonella, in partenza per Pechino Express, ha pungolato Nikita sulle reti sociali. Ma Nikita non ha certo restituito il favore a cuor leggero. Attraverso una serie di storie pubblicate su Instagram, ha smontato punto per punto le argomentazioni di Antonella, e la cosa non è passata inosservata. Nikita ha iniziato con un messaggio alquanto piccato, scusate ma qui stiamo esagerando. Amo risolvere in il privato, cosa che ho cercato di fare durante la settimana. Noto, nonostante ciò, che si continua pubblicamente questo gioco. Ahimè, quindi, per correttezza e trasparenza, mi tocca replicare con le stesse armi. Ma non è finita qui, Nikita ha poi condiviso un audio in cui chiedeva a Antonella quando sarebbe partita per Pechino, tu quand'è che parti per Pechino? Ti voglio vedere prima che parti, chiaro? Mi raccomando, non partire senza che io ti saluti. Non esiste. Ti devo dare l'abbraccio. Per la valigia ai tempo, vediamoci per l'aperitivo, se no per cena. E ha continuato a ricordare i consigli preziosi che le aveva dato durante il loro soggiorno nella casa di Cinecittà. Antonella aveva accennato a Pechino Express già all'epoca, quando lei e Nikita avevano discusso lungamente sul divano. Antonella aveva condiviso segreti, metodi e tecniche, considerando l'esperienza di Nikita nel programma. La Pelizzone aveva sottolineato l'importanza di trovare il passaggio per la mattina, e di avere la macchina pronta. Un consiglio fondamentale per chiunque sia presti a partecipare a Pechino Express. Ma adesso ci chiediamo, cosa c'è dietro questa faida tra Antonella Fiordelisi e Nikita Pelizzone? Quali segreti verranno svelati? Restate con noi, cari spettatori di Lady Gossip, perché ci addentreremo nel cuore di questa controversia esplosiva e ne scopriremo tutti i dettagli. Nel frattempo, date un'occhiata al video completo per approfondire questa storia intrigante.